Buonasera e ben trovati all'inchiesta. Questa sera la nostra rubrica si apre su una pagina non di cronaca nera ma su una pagina altrettanto importante, lo sport. Stiamo parlando della tessera del tifoso. Cercheremo di capire durante la nostra programmazione di che cosa si tratta e soprattutto qual è la sua utilità. Ho il piacere di presentare, abbiamo con noi in collegamento telefonico, l'avvocato Mario Stagliano. Buonasera avvocato e grazie di essere qui con noi. Buonasera a voi e grazie di avermi interpellato. Certo si è celebrato nel 2009 o nel 2010, con chi non poter offrire la tessera del tifoso, ma quello stesso soggetto che non può avere la tessera del tifoso. Arrivo subito anche qui in studio presentando il sociologo e anche sondaggista Nicola Ferrigni. Grazie Nicola. Grazie, buonasera. Per fare un piccolo preamolo, il sondaggio che abbiamo fatto ha dimostrato che comunque sia, come ho detto all'inizio, si parla tanto di tessera del tifoso ma poi in realtà la gente non ha capito bene di che cosa si tratta. Una parentesi che poi riprendiamo successivamente, ma intanto volevo chiederti quanto sociologo qual è la tua analisi sul fenomeno degli ultra? Abbiamo visto anche nel servizio e nella cronostoria che è stata realizzata questa questa sera come il fenomeno degli ultra abbia comunque delle origini oramai abbastanza decennali e abbastanza importanti. Sono stati tanti i casi di violenza negli Stati, purtroppo molti di essi terminati e poi con morti. Ricordiamo che sono state 14 morti per violenza negli Stati che sono un numero comunque molto molto importante. Se si pensa che si va allo stadio per assistere ad una partita, quindi a un evento sportivo, al calcio, alla distrazione e al gioco in sé stesso. Da un punto di vista sociologico la questione è questa. I tifosi violenti, il tifo, l'ultra che si riega allo stadio, essenzialmente richiede una identità. Richiede una identità, infatti teorie sociologiche a partire da Taylor degli anni 70, la scuola di Oxford addirittura hanno dimostrato come il tifoso violento sia una persona con degli insuccessi in ambito scolastico, in ambito lavorativo, che cerca nel palco. Ci sono le ripercussioni nell'ambito sociale. E perfettamente, dice bene, perfettamente la fotografia, l'esatta copia di quelli che poi sono i valori della società. Quindi lo stadio non diventa altro che un palco in cui amici e nemici si scontrano. E secondo una logica, quella del beduino, nel senso che amici degli amici e completamente nemici degli avversari. Avversari che possono essere avversari, vuoi per campanilismo, per ragioni geografiche, avversari per motivi sociali, di status sociale. Purtroppo molto spesso quello che è lo strumento di quello che potrebbe anche essere così la goliardia coreografia dello stadio, poi si trasforma in eventi delittuosi. E questo poi amplificato da quello che è il trasporto che c'è all'interno dello stadio. E appunto questo cambiamento da identificazione con se e sesso, quindi l'io che diventa il noi. Infatti ti blocco subito perché a questo punto ti chiedo, come ho chiesto anche all'avvocato Mario Stigliano, secondo te la tessera in questo caso può regolarizzare non solo l'accesso allo stadio ma garantire quindi quell'ordine e quella sicurezza che tutti vanno cercando sostanzialmente. Allora io sulla testa del tifoso ho una opinione un po' diversa da quello che è stato un po' anche gli scioperi, manifestazioni dell'ultimo periodo. Nel senso che io interpreto la testa del tifoso non come la soluzione al problema del tifo violento. La testa del tifoso rientra in un pacchetto dell'osservatorio e del Ministero dell'Interno contro le valenze degli stati. Di fatto la testa non può contrastare il fenomeno del tifo violento, questo è ovvio. Però è uno strumento che assume un'altra connotazione. Di fatto quando uno acquista un biglietto comunque viene in qualche modo censito. Perché se io acquisto un biglietto do un documento, carta di identità, hai tornelli elettronici e comunque c'è tutto quanto è segnalato e schedato. È tutto controllato. E infatti lo vedremo anche nel corso della seconda parte della puntata, quello che emerge dal sondaggio. Cioè la gente di fatto non sa. È stato un po' un trasporto pubblico, un'ovazione di sciopri e manifestazioni per reclamare e contrastare questa testa del tifoso ma anche di fatto, ripeto, non è lo strumento che nasce per contrastare ma è inserito in un pacchetto di strumenti, di campagne di comunicazione che la Polizia e il Ministero dell'Interno hanno fatto per arginare il frontamento degli stati. Di fatto tessere del tifoso è anche uno strumento di marketing per le società sportive. Perché il tifoso avrà con questa tessera, come dire, che poi di fatto le ho anche viste, immagino anche voi, sono delle tessere fatte anche in maniera simpatica che ti provocano una identificazione con la tua squadra. C'è la Roma, la Lazio, il Bari, il Milan, tutte le altre squadre. Questa tessera con colori che diventa quasi un passepartout per la squadra del cuore e di contro il tifoso avrà delle agevolazioni anche di tipo commerciale, di marketing e quattro altro. Quindi non è uno strumento perché poi le regole della tessera del tifoso ho visto e abbiamo verificato che in pochi realmente riconoscono. Io posso comunque andare allo stadio, nella mia città, posso andare in trasferta. Certo non potrò andare nel settore ospiti, è vero, ma non è un obbligo per assistere la partita. E poi perdonatemi, se la testa del tifoso non viene concessa, non viene data a chi ha il DASPO o comunque ha commesso l'interno stadio, io da spettatore che va allo stadio per divertirsi, la domenica per divertirsi, sinceramente preferisco non essere vicino a persone che hanno al momento dei provvedimenti per gli atti al stadio. È chiaro, è chiaro. Questo giustamente, vabbè, credo che è un pensiero che un po' ci coinvolge un po' a tutti quanti, il fatto di vedersi una partita in maniera tranquilla senza che poi possiamo cadere in episodi di violenza. Vi dicendo, raccontavamo prima nell'RVM l'episodio del, purtroppo ecco, è accaduto ormai da diversi anni l'Eiselle, quello che è accaduto dove anche lì ci sono state delle situazioni che purtroppo, ecco, credo questo, che se all'epoca ci fosse stato questo sistema di videosorveglianza che comunque oggi abbiamo all'interno degli Stati, sicuramente quell'episodio, ne parlavamo poco fa con Nicola Ferrini. Nicola, cosa stavi dicendo? Stavo dicendo sul fenomeno, da un punto di vista quantitativo, il fenomeno comunque è in calo, i dati parlano chiaro, sono diminuiti i feriti all'incontri di calcio, gli scontri è diminuita anche la forza di polizia che sappiamo comunque che molto spesso questa immagine anche di forza di polizia così presente può anche essere, come dire, anziché un deterrente può amplificare quel sentimento anche di compiacimento da parte dell'Ultra che molto spesso cercano questa identità all'interno degli Stati, quindi il fenomeno è in calo. Bene, allora collegamento telefonico il dottor Massimo Fini, direttore politico La Voce del Ribelle. Grazie direttore di essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto, ecco, volevo farle subito questa prima domanda. Tessera del tifoso, parliamo di una schedatura mascherata solo per i tifosi che vanno in curva? Ma più che una, il problema secondo me più che della schedatura è il fatto che si sta cercando di scoraggiare in tutti i modi riguardo. Ma quello che è successo l'altra sera a Genova io credo che poteva essere evitato in maniera molto semplice, nel senso parliamo di una tifoseria come quella serba che è una tifoseria che comunque viene da una guerra di pochi anni fa, quindi è una generazione cresciuta in maniera molto forte, tra virgolette. In maniera violenta, insomma. La stessa dimostrazione dell'altra sera, c'erano striscioni pro Kosovo, anche i cori che facevano, insomma sembrava più una manifestazione politica anche perché c'è un problema interno al Paese, l'altra settimana c'era stata anche una manifestazione molto cruenta contro il Gay Pride con certinaia di arresti, quindi è un anno superato, però lì le società con i tifosi costruiscono lo stadio insieme. Qui la testa del tifoso è stata data senza aver fatto neanche un'indagine di marketing perché la testa del tifoso non la doveva dare il Ministro dell'Interno secondo me, ma la doveva dare la FIGC perché era un strumento di marketing, non è un strumento di sicurezza. Dal vertice diventa un'industria, una specie di macchina spremi tutto, ormai si gioca la domenica a mezzogiorno, la domenica in Italia a mezzogiorno era uno dei momenti sacri non solo per motivi religiosi, quindi siamo arrivati ad un calcio, il calcio spezzatino, il calcio ovunque, le maglie che cambiano otto volte in un anno i colori, non c'è più quello che il calcio nasce nei quartieri, nasce nei rioni, si giocava con due maglioni e una palla di cuoio, questo era il calcio. Se per voi la testa era del tifoso, vediamo un uomo che dà un cazzotto in faccia a una ragazza in pieno giorno, vediamo uno zio che ammazza la nipote, se stiamo a parlare degli ultras, se questo è il problema della società, signori miei, alzo le mani, mi sembra. Nicola, una battuta... Una provocazione, è giustissimo il discorso che lei ha fatto, però io vi dico una cosa, aspettare che le forze di polizia vi concedano questa autogestione di fronte a questi eventi per me è difficile. Perché non fate voi un passo indietro da signori e dite, mettete delle triscioni e chiedete di essere completamente autogestiti e fate una trattativa anziché come fate sempre voi ultra con discorsi di acquisire giocatori o far cambiare dirigenti, società sportive, fatelo voi in questa maniera. Cioè, siate voi la parte a questo punto che propone l'autogestione. Una provocazione, poi... No, no, mi sembra invece una domanda... Brevemente, tanto lo riprendiamo tra poco. Prego, prego. Molto intelligente, non mi sembra una provocazione, anzi. No, il problema non è questo, qui non dobbiamo ridurre un problema, cioè la polizia ci dà fastidio, alla polizia dà fastidio gli ultras. Qui dobbiamo... Gianluca, un attimo, ti interrompo, 20 secondi di pubblica... Bergamo col Ministro Maroni è un problema di comportamenti di gruppo che spesso diventano comportamenti violenti. Se la elabora come vuole, oppure perché la pensa... si unisce un po' al coro in generale. Però adesso, Nicola, cosa è uscito fuori? Cosa è emerso dal nostro sondaggio? Sì, intanto appunto abbiamo voluto ascoltare i nostri, perdonatemi, ascoltatori, perché vedere un po' quanto poi di fatto ci sia questa conoscenza delle regole della tessera del tifoso. Allora, intanto lo vediamo anche nella grafica, la prima domanda è se sono d'accordo sulla adozione della tessera del tifoso. È emerso che il campione si spacca essenzialmente a metà, però prevalgono i cittadini che sono a favore del 56% del campione intervistato. E riguardo al motivo per cui non sono d'accordo, vediamo che il 50%, quindi un intervistato su due non è d'accordo perché la ritiene un'operazione essenzialmente commerciale. Il 42% invece perché la considera appunto una forma di schedatura e quindi uno degli argomenti anche affrontati nel corso della puntata. Però è interessante vedere ora quello che è la percezione con la conoscenza reale del fenomeno. In che senso? Una domanda successiva ha voluto appunto indagare su quella che è la conoscenza della tessera del tifoso e a domanda secca il 64% si dichiara conoscitore delle regole. Però abbiamo fatto, abbiamo voluto divertirci a verificare appunto, a svolgere quasi un esame nel senso buono del termine della conoscenza e quindi abbiamo elencato tutta la serie dei provvedimenti e delle regole della tessera del tifoso. Ad esempio, con la tessera del tifoso sarà possibile accedere agli impianti sportivi anche in presenza di restrizioni da parte dell'osservatorio e o della questura. Nonostante questa appunto è una determinazione della tessera del tifoso, il 24% la considera vera ma il 65% la considera falso, quindi questo vuol dire che non conosce questa regola. Così via, a seguire per esempio la tessera del tifoso, perdonatemi, è obbligatoria per l'acquisto dell'abbonamento e soltanto l'84%, nonostante sia un dato molto importante, la considera vera e quindi è quella giusta, ma c'è un 10% che ad esempio non è a conoscenza. A seguire, ad esempio, la tessera del tifoso è obbligatoria per assistere alla partita in trasferta solo nel settore ospiti e questa appunto è la principale novità della tessera del tifoso e la conosce essenzialmente il 55% del campione contro il 40% che invece la considera falsa ma appunto perché non conosce evidentemente la regola. La tessera del tifoso oppure è obbligatoria per assistere alle partite giocate in casa? Risponde affermativamente il 50% invece non è così, uno può comunque acquistare il biglietto anche senza la tessera del tifoso. Gli ultimi due affermazioni è la tessera del tifoso può essere concessa al termine del periodo previsto dal DASPO e addirittura qui la considera vera questa dichiarazione che è appunto la verità, soltanto il 16% degli intervistati. Infine, la tessera del tifoso dà accesso a tutte le facilitazioni o privilegi che ciascuna società sportiva proporrà ai propri clienti quindi il marketing e qui risponde affermativamente il 71,4% dei nostri intervistati. Cosa ne pensi Gianluca di questo? Il dato è un dato importante perché dimostra come ci sia stata tanta disinformazione come questa tessera che, ripeto, nell'idea, noi ne abbiamo parlato intanto, noi abbiamo fatto dell'idea.